ciao a tutti e benvenuti a non mi ricordo più come si chiama questo gioco born into buonasera buonasera anche a len ciao len ciao ci cominciamo così sportive gianza è stata una giornata un po particolare oggi ho fatto un sacco di cose stiamo parlando appunto con len per cui in questo momento ho avuto un piccolo lapsus non mi ricordavo che gioco è allora ci siamo lasciati l'ultimo episodio in questa casa questa è una casa opzionale ed è non mi ricordo più len qual è la 100 la 103 no 15 no 15 sì 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 era la 15 la 115 abbiamo deciso di fare questo giro all'inverso le bambole qui che passeggiano avanti andrea sono aumentate e però abbiamo anche capito che insomma quando entriamo in una casa non entrano anche loro si fermano su quello è un bene esatto infatti allora in questa casa opzionale dobbiamo parlare con madame muriel che sicuramente ci darà qualche cosa da fare in casa sentiamo cosa vuole dica sì dica sì ciao caro ti offrirei del tema sono un occupato al momento a fare rispondi occupata ma fatti a fare che ho detto subito a fare che si occupata sto cercando di chiamare il mio mio nipote parliamo almeno una volta settimana ogni settimana senza sgarrare da quando era un bambino piccolo tu li puoi rispondere non what what aspetta ah ok non voglio non voglio essere un fastidioso però lo sai che sei morta no oppure puoi risponderle mi dispiace di averti disturbato allora e ma lo sai che sei motta io posso dire no scusi si suppongo che a suppongo che che fare questa chiamata ogni settimana sia un po più difficile allora molto e qui risponderli sempre le stesse cose è sempre di essere morta oppure mi dispiace di di disturbarti proviamo a cambiare risposta è infatti qua cambia dice nessun problema caro a dir la verità se hai un momento potresti fare a questa vecchia anima un favore se naturalmente no no certamente no di cosa hai bisogno di cosa hai bisogno ma che modo di rispondere ma sto j è veramente scemo comunque mi consenta mi consente è stata una giornata particolare oggi mi consenta trovo difficile tirare sul telefono per chiamare il mio nipote è appunto ma sarà molto pure lui no era molto e dispiace chiamarlo per me di questo bene che lo amo è bene mica tanto vado 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 allora fammi togliere lo spruzzino che un po ha rotto ecco dove c'è la telefona madame muriel dove c'è la al telefono ma che mi sa che lo dobbiamo cercare un telefono proprio innovativo nana e nonna è un po tardi per chiamare sei elijah gli rischi puoi chiedere sì chi è questo come io chi è chi è al telefono chiesa io so io so io dove mia nonna sta bene e tu puoi rispondergli non nonna sta bene voleva che ti dicessi che sta benissimo e che insomma ma non è vero è motta dire che le voglio bene anch'io e dire che leva che il periodo di vacanze è stato spostato al 14 grazie va bene va bene va bene d'accordo e quindi adesso ne ha parla con lei diciamo che ci ha detto il nipote nipote grazie abbastanza mio qua perfetto perfetto damo se a casa è stata rapida è stata è stato anche rasa al suolo sì che dicebbero andare su una cosa è sì perché dobbiamo leggere che cosa è successo qui se ti incuriosisce la cosa e mi curiosi hanno ammazzato muriel ma non facciamo prima chiederglielo e non non dava l'opzione ma c'è il rapporto della egis vediamo che dice è morta con dignità e grazie non potevo non sono riuscita a torturare il l'obiettivo mission bidem perché ok ma al diavolo la missione gli ufficiali possono dire e farmi dirmi e farmi quello che vogliono ma non mi pentirò di aver dato a quella donna una breve cioè una veloce e morte senza dolore e la gente vega questo bene ok ok lei è morta diciamo rapidamente una serie a ogni volta che c'è un episodio dobbiamo prenderci almeno due tre coccoloni ma mi consinta mi consinta ma adesso noi dobbiamo passare di lì ok è a uscita ha bussato hai sentito eh sì io sono un uriani guarda lì sotto e guarda mortacci stracci tua sagra donna ma cos'è ma dai ma veramente fate ma non si fa così cioè io dieci anni di vita c'è ma sovvista ma non si può fare andata a fallo e tre quarti dalla palazzina no dai aperto la porta ok però aperto la porta è uscita per fare sta bravata qui fate capire ma le cazzate scusate chiudiamo un attimo ripetiamo un attimo aspetta che allora la guida cento quindi l'effetto tantissimo ok adesso esce devi andare a sinistra ok usciamo e andiamo a sinistra ce la faremo la prima a sinistra e mi pare ecco ecco io adesso lascio aperte porte ma si vede che ogni tanto le porte si devono lasciare aperte sì è arrivata la disgraziata allora se ho capito bene praticamente ti ha ti ha accusato di aver avuto uno scatto di nervi di di aver fatto i capricci e praticamente di aver buttato all'area non ho capito se i pezzi della dama può essere e allora devi ritrovarli e poi devi pulire di nuovo il muro vabbè guarda c'è lì poi c'è scritto lì sul muro che cosa devi fare sì 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 allora dobbiamo aspettare che ecco dobbiamo pulire i muri e trovare sei muri e trovare 88 pedine della dama no al contrario contrario dobbiamo pulire 88 muri giusto che non pulito già un pezzo e 66 pedine della dama ok e le mettiamo lì sulla cosa che vorrebbe la luce è questa però è se sembra che un po calda sembra che viene dal basso tanto sappiamo che siamo qua provando una spruzzatina perché non guasta questo è il lavoro che preferisce però sì 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 io adoro veramente ormai questo gioco mi sta insegnando a tenere tutto pulito in ordine e questo è cos'è ah è l'apporto ah c'è anche un altro spray ma io lo piglio in teoria lo puoi lasciare ogni volta invece te lo ridò no no mi chiume lo porto dietro ah ok allora sfortunatamente e gli obiettivi di questa casa sono stati colpiti da una da una emergenza di famiglia sono stati fuori da dalla città per una settimana sebbene questo abbia diminuito la montare degli obiettivi di questa di questa notte quindi ha reso il lavoro dei nostri agenti più facile significa che le nostre possibilità di successo di questa operazione sono diminuite possiamo solo sperare che non ci siano altre complicazioni che non sorgano altre complicazioni ok la gente green benissimo questa quindi ricordiamo questa non è una casa opzionale ma è una casa obbligatoria la casa si obbligatoria perché c'è la stella esatto andiamo su sperando che non ci compare nessuno davanti cosa qualcosa succederà lupo pedina ovvio scusate prima si pulisce e poi si prende la pedina senti come ticchetta la maledetta la bamboletta maledetta ma guarda sono veramente curiosa di vedere come va a finire questo infatti cioè la bambola finale no che è il boss alla fine si è calma ecco vabbè non si avvicini velocemente per favore infatti senta perché sennò qui si muove l'infarto è guarda abbiamo pulito ecco tutto pulito guardi si vuole ecco c'è anche la bamboletta ok tavoli da una bamboletta l'orsetto del cuore qui c'è da io però allora cosa fa eh? vedi pedine? ci sono pedine? ecco bravo la mongolfiera mortacci stracci tua ma va a fallovo va ma che cretina ma è proprio una cretina questa bambola posso dire? ma che bambola cretina ma anche la spirituosa ma io non lo so vabbè buh se mi vuoi fare un'altra volta moro giuro eh ma ci stracci tua sta cretina allora vediamo un po' eh mi sa che l'altro è giù eh qua no qua però avevamo già guardato si qua abbiamo guardato vediamo un po' allora di qua forse a sinistra ma perché 0 di 6? ah si 7 di 8 e si perché le devi mettere nella scacchiera le pedine e dove ce lo siamo dimenticato il muro non pulito scusami eh ah aspetta questa stanza ci siamo andati si il gabby c'è sempre il solito beh sicuro c'è una pedina ok ma dai guarda eh perché non puoi essere come tua sorella non era una rottura di balle come te quando è cresciuta ammazza che madre modello mi sa che ce l'hanno con gli adolescenti con gli adolescenti maschi in questo gioco che è la madre modella guarda sembra un gatto è vero una sorta di gatto un po' sciencato però si si è un po' particolare un gatto particolare allora abbiamo pulito l'ultimo muro e adesso mettiamo tutte le pedine al loro posto apposto c'è tutto? ti è finì? manca una pedina infatti mancava un pezzo e dove sta la pedina? eh maledetti tu l'hai messa? c'è da rifare un po' di c'è da rifare un po' il giro ah non c'è un'altra stanza su che non abbiamo visto oh anzi adesso andiamo a vedere qui in cucina abbiamo visto vero? non c'era mi pare che ce ne fosse una qua ma l'avevi già presa torniamo su sperando che non ci fa morire è forse questa? mi pare che c'era una stanza esatta dove non ci siamo andati vediamo forse qui c'è anche un'altra cosa esatto vedi? la nota del traditore e le vostre vite sono in pericolo uscite dalla città finché ancora potete ah quindi non avevano un problema familiare sono scappate perché gli han detto di scappare magari siamo noi traditori ah dici? può essere? tutto può essere può essere può essere può essere può essere conquistante anche quel poster eh posso dire? allora mettiamo a posto l'ultima bedina là perfetto ma compare eh certo è importante prendersi le responsabilità delle proprie azioni detto questo se succederà di nuovo non sarò così clemente ok io salvo salvo perché la pazza e poi scappiamo veloci aspetta guardiamo dove dobbiamo andare mancano le case e poi il boss devi fare tutto il giro qua eh perché siamo qua devi uscire sì devi uscire esco e andare tutto a vado a sinistra vado a sinistra e poi e poi dritto no dritto e poi a sinistra di nuovo sinistra e all'incrocio a sinistra esatto sempre a sinistra sinistra incrocio sinistra tu sta ecco la guarda si passa adesso ma che dici se mi butto ce la facciamo eh non lo so se riesci a penso che non ti riesca a raggiungere però non ho capito bene quanto veloce va guarda c'è un'altra pure là eh sì ormai è diventata una pattuglia unica però adesso se se ne vai non ti vede allora quella è l'incrocio e andiamo a sinistra e alla prima casa a sinistra vediamogli un po' di vantaggio a questa scionchia oh non ti aveva visto mi sa aiuto ok ok gira perfetto la prima qua che non so se ha l'apertura qui però mannaggia stiamo andando un'altra ok sì sì ok pensavo che stessimo andando ad un picnic prepara il cestino perché se no ci perdiamo il tramonto allora questa non è opzionale questa è da fare eh sì quindi devi prendere il cibo da mettere nel cestino ok allora il pane no andiamo a raccogliere no quello non gli piace la frutta frutta giusto ok la frutta quanti cosi di cibo vanno raccolti c'è scritto oh ma perché sento tutto questo rumore che pizza sono tutte qua fuori allora vado a salvare un attimo perché non mi sento tanto tranquila ok picnic item le pentole che è una roba cucinata no ok queste sono due fagioli dici il vino perché il vino non può mancare mai no ci mancherebbe oh no no via c'è un'uscita secondaria è preso un coccolone intanto leggiamo la avris aspetti che le posso le posso ecco migliorare la storia forse o no peggio sì uguale allora i target cioè gli obiettivi stavano guardando un film nel loro salotto quando siamo entrati in casa siamo stati colti di sorpresa dalla loro veloce reazione e il target beta è quasi scappato lungo il perimetro della casa fortunatamente uno dei nostri agenti era in stand by e riuscito a intercettare l'obiettivo prima che scappasse nello stesso tempo il target alpha ha lottato ma l'agente johnson ha mantenuto il controllo della situazione e presto entrambi alpha e beta sono stati affogati nella nel bagno la vasca da bagno ma un modo più tranquillo no due colpi vabbè la fobia di beta per l'acqua ha reso più difficile è infatti è un po' difficile per ah avrebbe avrebbe potuto rendere la cosa difficile per agenti più cioè come si dice cattivi e cazzuti meno bravi no però noi non abbiamo avuto problemi perché loro sono cattivi e cazzuti esatto e questo è l'agente calahan calahan questi li hanno affogati quindi magari nel bagno ci sono prove di questa cosa vabbè ecco la vasca da bagno è chiusa meno male però puoi aprire vabbè non c'è più però io tiro l'acqua ma l'acqua non si tira guardi le rimentano la tavoletta apposta non sia mai che poi si arrabbia niente ok e niente poi vediamo un po' c'è un piano di sopra penso quanti 8 vediamo 8 cibi 5 ne mancano 3 attenzione ah c'è un piano di sotto puoi vedere che c'è il basement pure qua andiamo può essere eccolo e mo e mo aspetta finiamo di fare poi salvo e poi veniamo qui a ok a spippolare perché se si può andare di nuovo lì sotto vorrei salvare prima le patatine in un picnic non possono mancare mai un bonsai un po' particolare questo portiamo no la giraffa no lo rigami oh no ma signorina ma mi consento cosa sta facendo sta fa yoga ma non lo so non capisco ma non capisco neanch'io perché fa così ma non è normale ma pure il il salsicciotto quello era il salsicciotto what c'è nessuno di sotto ok allora qui abbiamo preso tutto sediamo damose aspetto che ci compare davanti da un momento all'altro oh annaccia ok oh achievement sbloccato hold on credo sia hold on montaggi la odio che ha detto sta regina prepariamoci ad andare al picnic forse ci saranno anche i fuochi d'artificio stanotte allora però aspetta non so cosa ho cosa ha voluto intendere però io adesso salvo ok prendi la stellina ok a risalvo si ah ok si ti sta dicendo che sei in grado adesso di entrare nella casa 117 se vuoi no no non ci penso proprio guardi devo ancora spippolare vedi che c'è il fumo qui c'è temperatura attenzione noi abbiamo ancora credo tre case da visitare penso eh si allora proviamo un po' vediamo eh lo sapevo io te visto te visto non chissà questo cazzo però la sbughiamo dovremmo vedere un'altra parte no? eh credo di si non credo che sia sempre la stessa ammesso anche ammesso anche che si colleghino però dovrebbe esserci qualcosa di diverso da questa parte a meno che non sia visto un basement visti tutti non lo so eh mi sa che visto un basement visti tutti è un po' lo stesso allora l'abbiamo visto cioè una volta che lo fai in un punto è come se l'avessi fatto dappertutto forse eh sì questa è la porta che avevamo sbloccato eh sì qui si torna indietro alla 107 pensa eh cavoli alla 107 noi dove eravamo? noi eravamo qui beh ci siamo avvicinati pure no vabbè 107 dove cazzo la nostra qua no ci siamo allontanati ah è lontanissimo no 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 ma come ha fatto a fare tutto sto giro? abbiamo camminato due secondi ma vabbè vediamo quando dovrebbe esserci il laboratorio esatto esatto c'è ancora il codice 51 92 eh sì ok allora passiamo da qua qua ah no qua ci siamo stati ah qui c'era sì sì ci siamo sbloccato il passaggio quindi torniamo indietro in per di là torniamo indietro in per di qua niente questo una volta che lo vedi basta è fatto è lo stesso per tutte le case provo di il meno ah sì dritto per dritto dovremmo tornare esatto sì dovravamo alla cento di undici undici non sei sicuro che eravamo alla cento di undici sì sì cento di undici ah abbiamo anche la stellina allora adesso da qui noi dobbiamo andare aspetta che mi metto in posizione allora noi siamo qui sì e quindi esci e vai a sinistra a sinistra andiamo alla cento nove ok esatto e la cento otto dovremmo averla già fatta perché basta parlare con il signore che doveva consegnare la lettera e forse dovrebbe essere già fatta allora la prima sinistra oh no guarda come arriva volando no 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 ma sta disgraziata ma dove ci hanno portato ah devi fare i compiti perché sei in punizione devi fare i compiti no vabbè ti prego ma dai ma sì ma figurati se ci mettiamo a fare il calcolo non so neanche cosa sto guardando cos'è sta roba ma che cazzo roma ne so io esci dalla porta scappa ce ne andiamo? ci ne vogliamo andare? non penso che ci sia niente da fare dai spero di no no forse dobbiamo diciamo risolvere ah devi mettere il quadratino su quella che secondo te è la tua è la risposta giusta vabbè il primo lo so dovrebbe essere meno 10 ah 5 meno 15 10 si ma come si fa? lo scrive proprio? lo scrivo? no meno 10 perché 5 meno 15 quindi meno 10 eh però gli altri cancilla lì no doverà stire è togliere ok hai messo la risposta poi oddio tra meno 10 più 15 fa meno 7 8 più 15 8 è questo no? era questo no? ok si ecco poi non capisco ma su questi sono quelli sotto no no è giusto questi qua quelli lì dove hai messo è giusto poi c'è 69 più 351 420 ok metri 420 poi 10 per 7 meno 51 quindi 70 meno 51 fa 19 sì esatto 19 ok e poi poi c'è 2,5 per 2 che fa 5 5 sì e poi e poi 30 meno 64 che fa meno 34 esatto ok ok oh le sole le aned devi straccia davvero sciviment ci straccia c'è pure i compiti si ma tu hai ragione qua c'entra un casino con con la vita di un adolescente eh sì è troppo non lo so troppe cose dobbiamo fare pure i compiti a casa infatti famo dove siamo eh non lo so mi sa che dobbiamo uscire a guardare dove siamo perché non so dove ci ha portato 103 103 ma stiamo scherzando oh oh my god siamo qua vabbè esco e vado tutto dritto a destra e poi io vado a sinistra vado a destra così finiamo la 108 sì facciamo la 108 e poi di fronte quindi sono uno due tre alla quarta casa no no perché prima passi la 104 sì uno due quindi la terza la terza ok la terza non sbagliamo pensavo che era male a 105 alla terza casa sì ok quindi quella è passata poi passa anche l'altra beh no non ci sono casi qua stiamo tornando la macchina mi sono sbagliata ma come è possibile allora forse la 103 di qualche altra cioè 102 eh 101 2 quindi questa è la 3 oh no ma ma dove stiamo finiti ma io intanto spippolo ma forse ce l'avamo anche già stati qui no siamo sul retro e quello chi è? lo vedi? eh non vedo ah sì è vero ma non è una bambola? sì ma è piccoletta allora cerchiamo di capire che il numero di casa è questa oh madonna perché ah eccola lì 105 è giusto quindi siamo qui ah sai perché forse stiamo usciti dal retro di quell'altra casa 112 per quello abbiamo sbagliato mettiti magari un attimo nella 112 e calcoliamo dove dobbiamo andare ma questa ma questa è la 105 vabbè vediamo un attimo dunque siamo nella 105 che è questa ok è in teoria andare a destra a destra a destra tutto fino in fondo alla 108 allora oh però deve passare oh ma dimmi c'era un'uscita secondaria è il problema è che mi sa che dalla 103 abbiamo preso l'uscita secondaria ed è per quello che non c'erano le cose dove le cercavamo allora ora dobbiamo andare all'ultima casa in fondo a destra non ci possiamo sbagliare ma magari possiamo passare dal retro eh è quello il fatto però questo no questo è il davanti quindi non c'è possibilità di sbagliare qui è per forza in fondo eh qui è in fondo e là c'è un'altra bambola però adesso appena passi guarda che casa è questa qua oh oh si è fermata e è preso un coccolone no potremmo passare anche di qua eh se si capisce dove siamo si potevano farci un puntino sulla mappa per farci capire dove eravamo ma questo è questo noi dobbiamo arrivare in fondo alla strada che è questa vedi ci siamo arrivati eh sì ci sono bambole non credo questa che casa è ma come la 101 eh vedi è un casino è questa la 102 104 allora è di qua che dobbiamo andare 103 è assoluto per forza qui ci sarà la 106 oh no guarda un po' che è 113 oh mamma 115 115 fregate fregate vattene a fallova allora si ferma qui ritorna 115 115 oh mamma 115 allora adesso allora 115 uscita devi andare a sinistra eh no eh no perché torniamo verso la 101 di qua di qua però andiamo verso la macchina me sa eh non capisco non capisco più come siamo messi siamo messi male ci ha fregato quella quella punizione che ci hanno dato oh guarda eccola ma 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 posso dire mi consinta ma che cosa è successo non vorrei che anche questa creasse problemi eh sta lì lontano dice eh non lo so non mi sembra che abbia le intenzioni cosa fa no ce ne va oh mamma ah quella li chiama la mamma quella chiama la mamma non fa mona sei proprio l'infame non t'ho manco tu sfiorato questo adesso ritorna indietro cioè adesso se ci ribigliano ci mettono in punizione di nuovo è un problema poi perdi la allora siamo nella 115 che poi pensa siamo nella via del del boss però io voglio andare a fare due case sì anche perché la via del boss vedi che va presa comunque in un certo senso perché c'è la viuzza proprio da prendere eh sì dietro la 115 siamo a stare attenti allora noi dobbiamo andare alla 109 a questo punto non lo so più perché io sarei uscita sarei andata a sinistra ma se siamo arrivati da lì a meno che non c'è un'uscita sul retro qua c'è un'uscita sul retro eh no non mi pare sì sì però ma la guarda sta bambola cretina e quindi questa che è uscita è ah qui c'è la c'è la c'è la c'è il boss sì sì e allora aspetta è quella quindi noi siamo qua dietro sì possiamo arrivare alla 109 da qua eh proviamo eh stiamo a piangere adesso arriva stronza ma è proprio una stronza chissà dove siamo qui no vabbè 109 eccola fantastico bravissima dai non è non è nemmeno di fronte ci abbiamo una 108 no allora ci siamo quindi stiamo a posto yeah ok allora vediamo cosa dobbiamo fare qui con beh vogliamo leggere prima di parlare col fantasma prego Roberto dica tuo padre ha chiamato pochi minuti fa chiedendo se puoi spedire più soldi questo mese Manbel è stato Manbel è stato colpito da un by a mob crossing the road non so che cos'è un mob però probabilmente qualcosa che attraversava la strada quindi qualcosa di veloce che ha forse un motorino uno di quelli sai tipo un come si chiamano vabbè non mi viene il termine neanche a me la Vespa no come si non è la Vespa lo scooter ah lo scooter ed è stato portato velocemente in ospedale le sue bollette saranno le sue fatture saranno piuttosto care e la famiglia spera che noi li aiuteremmo a coprirle mi dispiace che non ho aspettato finché non sei arrivato a casa per dirtelo ma queste pillole per dormire stanno finalmente facendo effetto vabbè perfetto allora e quindi sapremo però quello ecco questo è Don Roberto Don Roberto ha bisogno del nostro aiuto e noi glielo daremo senza ombra di dubbio la prossima volta e quindi la prossima volta ricominceremo dalla 109 poi andremo alla 108 e a questo punto andremo anche alla 117 che è la finale poi noi lo chiamiamo boss perché sappiamo che c'è una bambola pure in lì no? in teoria sia la cosa più difficile che dobbiamo fare esatto quindi lo scopriremo la prossima volta intanto salutiamo Don Roberto un saluto da Don Roberto da Len e da me ci sentiamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao 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 ciao